Ciao a tutti ragazzi, io sono DareSky e oggi proveremo a portare al grado 20 rosa. Incominciamo. Speriamo di trovare qualcuno di bravo. Ecco, beh, non male. Ok, facciamo due power up. Tre. Allora. No. Ok. Sono fatti uno. Ok. Sette power up. Direi di far respawnare il mio amico. Ok. Due. Uno. Oh no, non mi laggare. Ucciso ancora. Oddio. 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 Eccoti. Eccoti. Dai. Ho fatto il primo, ok. Dai. 12 power up per me. grande. Grande. Gigi. Dai, bella partita. sei coppe. Dai. Dai bro, accetta. Bro. Dai, ti prego. Vabbè. Niente. Usiamo. Oh, grande. Grande. Ok. Ok. Accettato. Dai, è ancora. Dobbiamo arrivare ai secondi almeno. C'è un bull. Ok. Ok, un power up. Ma dove mi spara? Questo non credo di vincerlo. No. No, no. Adesso è qua. Ok. Ok. Oh, no. Vabbè, vabbè. Lo stesso. Oh, grande. Non ci credo. Vinciamo anche questa, dobbiamo. Sette power up. Dai, eh. con i jams. Io non vorrei camperare, però. Sappiamo. sono scemo. Sono scemo. Ma cosa ho fatto? tanto. No, tanto. No, la power up. Grande. No, vuoi aspettarmi. l'ho sbagliato sono ancora qua tre squadre ok oddio no 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 ti prego no non ci credo non ci credo zero proviamo ancora dai questa è quella decisiva dai coli jams allora nel caso vi stiate chiedendo perché mi chiamo firepastore07 perché è il mio nome su playstation ok 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 oddio no 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 non provo mi dispiace eh scappate no 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 bravo non morire ancora tre squadre dai chiusa chiusa ok meluce meluce no mi dispiace qua di sicuro ora uno ok gg gg oh sapete che potevo anche arrivare alle 6300 allora se arriviamo ancora agli 8 like 6300 coppe o anche di più quindi aspettate apro sta box niente ho 3 gemme non male allora noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao